Noi c'è un mister degli irriducibili, oggi è arrivato un pareggio, a rimanere ammarco per i tre punti, però queste sono le partite e questo è il calcio. Comunque, iniziamo subito a capire, quest'anno è irriducibile, inirriducibile, è l'importante? Sì, sì, hai ritrovato qualche innesso dal vecchio modesto d'uomo, che ha assolutamente una mano e più qualità in campo, sicuramente, e si sta venendo perché parte della prima partita è arrivata un po' fatica e stiamo trovando un po' la quadra giusta, quindi è un continuo crescere, speriamo di crescere ancora di più. Oggi 1-1, è una partita attiratissima, però si sa, fai il 1-0, ma se poi non fai subito il 2-0, poi il 3-0 è una pecca nostra di quest'anno, forse anche degli altri anni, non lasciamo mai a chiudere, però sapevamo che saremmo arrivati qui, non avremmo trovato una qualità facile, loro sono una bella squadra e la posizione in classifica non rispecchia appunto la loro posizione, quindi sapevamo che sarebbero arrivati loro contro la Tadenti, poi davanti al loro pubblico e sapevamo di andare incontro una qualità difficile, ci è peccato che comunque abbiamo forse dominato proprio noi il pallino del gioco e gli episodi poi, il calcio, la palla tonda, hanno rispetto anche di vincere alla fine, quindi giusto così forse, pareggio di un buon giusto, un buon pareggio. Ragazzi, lei bocca al lupo, è la prossima, se ne è contropiede. Luzogno, la prima della classe. Un'altra bella sfida. Dura, due parite durissime, andare difficile. L'ultima del ritorno, l'ultima dell'andata, poi comincia il ritorno.